c'è un cuore che batta ma nessuno lo sente quindi la cavalcata in seriata seguito tutta come c'è l'ho voglia e voglia al viaggio peccato che sono in ufficio adesso se fossi mancato mi farei vedere la cavaletta mia che t'ha pensata anche io la piccola andava a vedere vabbè sono nella provincia di benevento da vedere il napoli dell'evento con mio papà poi quando sei piccolo vedi i giocatori come una sorta di supereroi il campo perfetto è bellissimo bellissimo come sempre lo si fa ci crediamo ci crediamo io almeno che ho avuto il modo insomma di di vedere come lo fate ci credo che fate e lo sapete fare bene tutti insieme ti mando un abbraccio e fai tanto tifo per noi ciao ciao davvero Ciao, ciao.